Domenica intensa in casa la molisana Magnoia Campobasso, sia il quintetto di A1 che quello junior di B saranno impegnati sul parquet, su di un fronte per la penultima di regular season. La prima fase del viaggio terminerà sabato prossimo a Bologna, sull'altro invece per gara 1 delle semifinali playoff. Reduce da 5 successi consecutivi, il roster affidato a coach Mimmo Sabatelli vuole aggiungere un ulteriore refertoroso al proprio magic moment, affrontando il San Martino dei Lupari, in una contesa al sapore speciale per Nina Dedic, ex di giornata. Tra le Venete, il dubbio è quello legato alla presenza o meno della lunga statunitense Kostovic, infortunata al pari della francese Turchinovic, rientrata però domenica scorsa contro Schio. Coach Sabatelli ha tutto il gruppo a propria disposizione e cercherà, forte del lavoro in difesa e transizione, di regalare ulteriori sorrisi ai supporter Rosso-Blu, pronti a dare manforte alle proprie beniamine, a dirigere il match una terna tutta al maschile, formata da Gagliardi, Morassutti e Coraggio. Mezz'ora più tardi, invece, al palacardito di Ariano Irpino, inizierà il proprio percorso di semifinale alla formazione Under, impegnata nel torneo di Serie B con Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Il coach dei Fiorellini d'Acciaio, Gabriele Di Totalevi, è alle prese con i dubbi Moscarello e Rizzo, ma ad ogni modo è pronto a dare alle sue anime e forza per puntare ad una nuova impresa. Su questo fronte partenopei entrambi i direttori di gara, ossia Perretti e Romano. Grazie a tutti.